mi tocca fare mi tocca fare ragazzi una micro lezione di due righe perché avevo fatto male la foto mi dispiace allora eravamo all'ultima parte del secondo paragrafo di annales 14 stavamo parlando di quanto fosse perversa e ambiziosa grippina e come non si fermasse assolutamente di fronte a nulla ma usasse il suo corpo la sua bellezza per arrivare al potere e manovrare gli uomini compreso il proprio figlio infatti avevamo visto che quello che diceva cluvio ricordate l'abbiamo tradotto nella precedente lezione sono praticamente qui le cose che cluvio afferma anche gli altri autori le hanno confermate e anche la fama inclina da questa parte sia perché sia che agrippina abbia concepito nell'animo tanto di perversione sia perché ecco qui questo seu seu possiamo anche sottintendere un una causale sia che sia che sia perché sia perché sia perché vis a est sembrò più credibile la meditatio questo è il soggetto è meditatio la l'ideazione di questa nuova perversione in essa in essa cioè in questa donna in agrippina in essa che già negli anni poi laribus cioè negli anni in cui era una ragazzina aveva a miserat aveva accettato aveva concepito stuprum cioè l'adulterio questo è un complemento oggetto stuprum no l'adulterio con marco lepido marco lepido abbiamo detto nella precedente lezione è suo cognato il fratello di drusilla l'altra sorella di caligola agrippina è figlia di germanico sorella di caligola caligola aveva fatto sposare a drusilla marco lepido e l'aveva anche designato come rete al trono perché lepido era comunque della stirpe di marco agrippa no l'amico di ottaviano insomma agrippina non sapendo che marco lepido potrebbe diventare imperatore è un uomo di potere lo ruba alla sorella anzi entrambe le sorelle se lo dividevano alla fine dice tacito comunque lasciamo per te quindi già da bambini da negli anni in cui era una ragazzina aveva accettato lo stupro con marco repido spedominazioni la sua ambizione è la spè la spessa la speranza del potere quindi complemento di causa ovviamente è complemento compl causa non si legge bene vabbè e pari cupidine e per lo stesso motivo provoluta provoluta erat è anche qui diciamo abbiamo una serie di relative chiaro perché è sempre que che regge a miserat e poi provoluta erat e poi esercita erat quindi chi aveva ammesso l'adulterio che si era poi abbassata provoluta pari cupidine per per la per lo stesso desiderio cioè quello del potere fino alle voglie di pallante pallante è il famoso liberto di claudio quello molto potente molto influente con claudio e che l'aveva insomma fatto avvicinare all'imperatore che tra l'altro era suo zio e infatti vediamo il terzo passaggio e che esercita erat e che si era esercitata ad ogni perversione con le nozze de a allo zio cioè le nozze con lo zio claudio dello zio claudio qui patrui è il patrus è il fratello del proprio padre quindi lo zio paterno e è un dativo perché ci si sposa a qualcuno quindi è un complemento di termine patrui un dativo quindi ed era esercitata ad ogni perversione con le durante le nozze con le nozze allo zio insieme con le nozze dello zio bene e con questo ci fermiamo avendo completato il secondo paragrafo del di annales 14 dedicato alla perversa e implacabile agrippina